musica 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 ragazzi andrei a là no no vatti vai giù vatti vai leo vai la lista ancora la lista Alex vai giù Alex dai Alex grande bravo vai ancora dai Andrea vai di nuovo bravo bravo paura vale ciao marchino torniamo indietro via via sta palla e ci esci presa presa lo facciamo girare bravo appoggiati 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 mettila giù bravo uno due uno due uno due uno due dai Ettore dai Ettore dai Ettore entra Dami guarda la palla guarda la palla Dami dai 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 quanti si pagine dai AlexAK dai tamizia provale provale Vieni tu! Non te lo fa passare Damì! Provala, provala! Provala! Bravo! Bravo male! Oh, oh, non lo fa girare! Ezza mani là! Vieni col corpo! Bravo! Bravo ragazzi! Timone! Va meglio! Vieni, 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 dopo, dopo! Ezza Marchino! Bravo! Ah, questo tempo tu hai dieci minuti e poi mi cambi, no? Si, hai ragione! No, perché ora... Eccido! Eccido! Prova! Resta, Peter! Se parte seppa, Peter, resti, eh! Uno! Buono, Simone! Buono, Simone! Buono, Simone! Alla fine, sali, sali il capo! Sali il capo! Sali il capo! Bravi, bravi, bravi! Bravo, Simone! Buono, Simone! Buono, Simone! Buono, Simone! Eccido tutto, perdiamoci! Ettore, fatti vedere! Rollo, stai troppo lontano, non c'è niente con là! Vai, Vanessa! Vai, vai, Simone! Manda su! Vai, Simone! Vai, Jacopo! Bravo! Bravo, Vale! Ciao, Andrea! Qui c'ha values� dentro! E' family! Unástica! E' family! 've been тай Из- carrivederso, es- carrivederos! Ero介 tyre, Y 20- carrivederaso! Committee c��ine! Ero介ignty! Grazie a tutti. Grazie a tutti.